Il vivaio di Ariola rappresenta un punto di riferimento per la produzione vivaistica calabrese in quanto offre una vasta gamma di specie forestali ed ornamentali, un attesoro verde nel cuore delle sere calabre che testimonia l'impegno di Calabria Verde della Regione Calabria nella valorizzazione del patrimonio forestale nella salvaguardia delle biodiversità calabrese. Proprio da questa considerazione parte l'analisi dell'assessore regionale dell'agricoltura Gianluca Gallo che ha sottolineato l'impegno della Regione nell'appuntare al rilancio della forestazione. Un grande patrimonio, un patrimonio straordinario che è stato costruito nel corso degli anni con il sacrificio di tantissimi lavoratori che si sono impegnati nel settore forestale. La stessa Corte dei Conti ci testimonia che comunque la forestazione in Calabria ci ha lasciato un grande patrimonio che noi trasferiamo quasi inalterato ai nostri figli alle nuove generazioni sperando che lo possano utilizzare meglio di come è stato utilizzato da noi ma sicuramente c'è una prospettiva sia di rilancio della forestazione calabrese sia di nuove regole che la possano orientare verso la produttività. E questo è un indirizzo che la Giunta regionale vuole dare? Sicuramente sì perché sia qui ci troviamo in un vivaio che ritorna a splendere ed è un vivaio nel quale sono state prodotte milioni di piante che poi sono state piantumate e oggi sono alberi che costituiscono il nostro patrimonio ma ce ne sono tanti altri e soprattutto c'è la prospettiva in un contesto generale nel quale i grandi della terra hanno deciso che dovranno essere piantumati mille miliardi di alberi nei prossimi 50 anni di poter produrre e vendere le proprie piantine anche ad altre regioni oltre che piantumare le piantine prodotte nei nostri vivai sul nostro territorio. E poi c'è la possibilità di entrare nella fiera Bosco Legno e perché no l'utilizzazione come in questo caso altra potenziale utilizzazione di un territorio e di un patrimonio per un turismo lento, sostenibile e ambientale che possa coniugare questo prodotto straordinario che è il prodotto ambientale ad una enogastronomia di qualità.